Ciao a tutti, oggi prepareremo le scaloppine al marsala. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono scalogno, burro, timo, fettine di lonza, farina, marsala, sale, pepe, latte. Andiamo via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo già panato le fettine di lonza. Adesso mettiamo nel boccale lo scalogno, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riumiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il timo, posizioniamo sulle lame le fettine di lonza. Versiamo il latte, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, antioreario, velocità soft. Adesso giriamo le fettine di carne. mettiamo un po' di pepe, un po' di sale e il marsala. chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le scaloppine sono cotte, andiamo a impiattare. scaloppine al marsala. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!